Arte e gastronomia si incontrano per dare vita all'evento Dal Quadro al Piatto, iniziativa promossa dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con la Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico, Artistico ed Eno Antropologico e del Polo Museale della città di Roma. Una manifestazione che si svolgerà dal 9 al 13 aprile presso la Galleria Nazionale di Arte Antica di Palazzo Corsini e che è rivolta agli studenti delle Scuole Superiori di Roma, al fine di illustrare alcuni capolavori artistici che hanno come soggetto 5 alimenti base della gastronomia italiana, pasta, pesce, formaggio, verdura e frutta. Oggi si inaugura un'originale iniziativa Dal Quadro al Piatto che unisce arte e gastronomia. Come nasce l'organizzazione di questo evento e qual è l'obiettivo? L'evento è stato organizzato dall'ufficio stampa del CNR con il supporto del Dipartimento Biagra Alimentare che io dirigo e l'obiettivo è quello di stimolare l'interazione tra gli esperti che si occupano di scienze umane, sociali, beni culturali, con gli esperti di nutrizione e con noi che ci occupiamo ovviamente di ricerca sia dal punto di vista della nutrizione che anche, essendo il CNR un ente generalista, anche di beni culturali e beni umani. La collaborazione con il CNR è ormai giunta per la soprintendenza speciale di Roma alla seconda edizione. La prima è stata l'anno scorso con interventi a Palazzo Barberini sulla diagnostica nell'arte. Quest'anno invece in Palazzo Corsini c'è questa bellissima iniziativa dovuta proprio alle idee di Sandra Fiore del CNR, Michele Di Monte e Clara Montesanto dei progetti educativi della soprintendenza che vanno alla ricerca, a dimensione spazio-tempo, del cibo come rappresentato e comunque sapere ciò che veniva mangiato, almeno visto e usato anche in una dimensione simbolica. Tanti protagonisti dell'evento che interverranno durante le giornate da storici dell'arte a volti noti dell'imprenditoria gastronomica italiana in un percorso che va ad analizzare e a diffondere la cultura della buona alimentazione. Quanto può servire l'arte appunto per sensibilizzare la gente a un buon uso dell'alimentazione? Qualsiasi cosa che sensibilizza il consumatore di mangiare meglio, mangiare sano, è ben accettato. Certo che con questa mostra si vede l'importanza del cibo nei secoli e questa è una bellissima cosa perché si vede che c'è cultura dietro, c'è cultura di ricercare gli alimenti giusti ma c'è anche la cultura di trasformarli in modo appropriato. Come saranno organizzate le giornate? Sappiamo che ogni giornata sarà dedicata a un alimento specifico. Sì esattamente, sono cinque giornate, in ogni giornata verrà esaminato un quadro che si rivolge, che mostra, che illustra un alimento specifico. Credo che si parta esattamente dalla pasta e si finisca alla frutta per seguire appunto quella che oggi è la nostra alimentazione qui in Italia e ci sarà insieme all'illustrazione del quadro, ci sarà anche un esperto del CNR che parla delle proprietà nutrizionali dell'alimento e nello stesso tempo credo anche un'esposizione di alimenti tipici di quelli che oggi sono questi alimenti tipici in Italia. Sono tutte eccellenze normalmente dell'alimentazione italiana che vengono mostrate appunto dalla pasta alla frutta.